La fotografia è a tutti gli effetti un linguaggio, è anche piuttosto pervasivo se pensiamo che al giorno d'oggi le immagini sono il mezzo principale con cui comunichiamo pensieri, emozioni e raccontiamo le nostre storie al mondo. Ma allora perché, proprio nel momento in cui ci troviamo in questa cosiddetta società dell'immagine, è così difficile raccontare qualcosa con le nostre fotografie? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia e facendo un paio di rapidi giri sui vari forum di fotografia o siti dedicati, una delle domande che vedo ricorrere più spesso è proprio questa. Che cosa vi comunica questa mia fotografia e come potrei migliorarla? Oggi prendo spunto da questa domanda ricorrente per fare un video in cui vi do i miei tre consigli definitivi per migliorare le vostre fotografie e riuscire a creare un racconto. Io vi assicuro che se guarderete questo video fino alla fine sarete migliorati parecchio nel giro di pochi minuti e difficilmente avrete bisogno di un nuovo video di consigli per migliorare le vostre fotografie. Prima di cominciare vi ricordo per chi ancora non fosse iscritto che il bottone per farlo è proprio qui sotto, con un semplice tocco di una delle vostre dita, che sia il pollice o l'indice, a me poco cambia, date una grossa mano al canale e anche a voi stessi perché rimanete aggiornati su tutto quello che riguarda fotografia, video e immagine in generale. Molto bene, ma io vi ho promesso tre consigli per cui partiamo subito con il primo consiglio. Impariamo un po' di tecnica. Non è necessario diventare dei topi di biblioteca e fare fuori tutti i libri di fotografia che troviamo. Non è necessario diventare socio unico di Udemy o altre piattaforme dove vengono elargiti corsi a pagamento e acquistare qualsiasi corso dedicato a fotografia e video. Non sto dicendo che dobbiamo passare la nostra esistenza a studiare delle cose senza neanche sapere se ci interessano e se ci portano da qualche parte solamente per puro piacere nozionistico. Non sto dicendo questo. Parimenti però, prendere in mano un dispositivo come questo e cominciare a puntare e scattare cercando di vedere che cosa riusciamo a cavare dal dispositivo è un metodo abbastanza fallimentare. E questo per il semplice fatto che noi abbiamo su questa terra un tempo abbastanza limitato. Se ognuno di noi dovesse mettersi a ripetere dall'inizio gli errori che sono già stati fatti da altri fotografi, ognuno di noi arriverebbe all'età di 70 anni con una conoscenza sufficiente a cavarsela nella maggior parte delle situazioni. Ma noi siamo molto fortunati perché non abbiamo bisogno di aspettare fino ai nostri 70 anni. Infatti possiamo fruire le esperienze, gli errori e i successi di altri fotografi che ci hanno preceduto, alcuni dei quali sono degli artisti, altri sono dei tecnici, altri ancora semplicemente fanno questo di mestiere. Io mi colloco in quest'ultima categoria. Noi possiamo fruire tutto questo materiale con libri, corsi online, video su YouTube e possiamo imparare dagli errori degli altri in maniera tale che non abbiamo più bisogno di fare 100.000 foto a un soggetto prima di renderci conto che fatte in un certo modo funzionano e fatte in un certo altro non funzionano più. Nel momento in cui ci approcciamo alla fotografia con spirito critico e con voglia di imparare, andando ad apprendere da chi queste cose già le ha imparate sulla sua pelle o imparando a sua volta da altri, stiamo risparmiando un sacco di tempo e ci stiamo portando avanti laddove invece se non avessimo imparato da altri, se avessimo continuato a fare di testa nostra scattando e cercando di capire cosa funzionava e cosa no, ci avremmo messo un'eternità magari anche solo semplicemente a capire che una foto contro luce può piacerci meno rispetto che una foto fatta con la luce a favore. La tecnica in fin dei conti non deve essere considerata come un esercizio di stile fine a se stesso, al contrario deve essere considerata la grammatica, l'impalcatura del racconto che vogliamo costruire e senza il quale facciamo fatica a comunicare qualcosa, proprio come se io provassi a comunicarvi qualcosa ignorando le basilari regole della lingua che sto parlando. Sarebbe molto difficile per me esprimermi, sarebbe molto difficile per voi comprendermi. Nel momento in cui io mi ponesse di fronte a una videocamera e mi esprimessi a ruggiti e sibili e poi vi chiedessi, vi è piaciuto il mio video, molti di voi verrebbero a dirmi che non hanno capito che cosa io stessi cercando di dire con quei versi. Per cui in sostanza impariamo un po' di tecnica. Non tutta, non è necessario diventare dei luminari, ma un pochino, quel tanto che basta per poter raggiungere il risultato che vogliamo in maniera fluida, non goffa, non impedita. Impariamo quella tecnica che è sufficiente per comunicare quello che vogliamo comunicare. Secondo consiglio fondamentale, e questa è una cosa che avrei voluto che qualcuno dicesse a me tantissimi anni fa, mi avrebbe risparmiato non errori, perché alla fine non sono errori, ma tanti soldi, quello sì, tanti tantissimi soldi. Adeguiamo il nostro mezzo fotografico alla nostra esigenza. Che cosa significa questo? In questo momento sto riprendendo questo video con una bellissima Lumix S5-2X e sto riprendendo con un SSD esterno in 4K a 10 bit 422. Per chi non fosse pratico di video vi basti sapere che è una risoluzione assolutamente fantastica con una profondità colore meravigliosa e questo file pesa così tanto che non posso scriverlo sulla memory card interna, ma devo scriverlo su un hard disk esterno perché se no pesa troppo. Questo che cosa significa? Sostanzialmente io sto registrando con un formato fantastico, sto facendo un video molto più grosso di quello che servirebbe veramente su YouTube, ma io lo sto facendo per due motivi. Il primo è per sperimentare e mettermi alla prova, il secondo è perché io su YouTube porto la mia esperienza come fotografo e videomaker, prima ancora che creatore di contenuti. Quindi io ci tengo a farvi vedere che ho un audio pulito, si spera, una illuminazione quanto più curata possibile e una qualità d'immagine al passo con quello che voglio raccontarvi, perché se io vi racconto che sono mega professionista e poi la mia immagine fa schifo, c'è una dissonanza cognitiva in quello che vi sto dicendo, quindi devo adeguare i miei mezzi a quello che voglio fare. La ripresa che sto facendo adesso è adeguata all'obiettivo che mi sono posto? Assolutissimamente no, perché per andare su YouTube sarebbe sufficiente un iPhone. Per andare su YouTube è sufficiente un iPhone che riprenda in 1080, ma anche in 4K, ma è assolutamente sufficiente, per cui quello che sto facendo io non è adeguato all'obiettivo che mi sono posto di creare un contenuto. È sopra, è molto sopra. Per questo vi dico, adeguiamo il nostro mezzo fotografico o videografico a quello che stiamo facendo. Non ha senso che io mi compri un Alexa o una Red per fare i video su YouTube. Non ha senso che io spenda 40-50 mila euro di fotocamera, obiettivi e accessori a parte, per fare un contenuto che poi va su YouTube con la compressione di YouTube e che quindi deve essere compresso, scalato e rimpicciolito. Non ha assolutamente senso. Pensateci, allo stesso modo, se state facendo semplicemente delle fotografie del vostro cane, lo dico senza ironia alcuna, perché conosco tante persone che amano moltissimo il proprio cane e gli fanno delle foto. Se state facendo delle foto del vostro cane in veranda, non ha senso spendere 5 mila euro per una macchina fotografica. Attenzione, il fatto che non valga la pena non significa che se potete permettervelo non dobbiate farlo. Se potete permettervelo e volete farlo, ben venga. Quello che dico io è che non ha senso che vi sveniate per una cosa del genere. Una macchina da 5 mila euro la comprate se siete professionisti, se ci lavorate, se ci guadagnate, oppure la comprate se, a questo punto un po' di invidia ce l'abbiamo tutti, se siete ricchi e semplicemente volete togliervi lo sfizio. E va benissimo. Ma non era necessario. Per fotografare il proprio cane in veranda, una fotocamera entry level di solito è sufficiente, perché è una foto mediamente facile, con una zona di comfort tale, siamo in casa nostra, abbiamo tutto il tempo, e il nostro cane è docile perché è lì con noi, che possiamo prenderci il tempo per fare i nostri tentativi, anche con una fotocamera da poco, passatemi il termine. Viceversa, ovviamente, se siamo sugli spalti dello stadio e stiamo fotografando il Super Bowl, a quel punto è ovvio che ci serve un'ammiraglia, ci serve una macchina ultra prestante con un obiettivo a cannone di quelli grossi così, che probabilmente costa come un'automobile, e lì non ci sono cavoli, ci serve quella roba lì, perché altrimenti non portiamo a casa il lavoro. Avete capito che cosa voglio dire? Adeguiamo la nostra strumentazione a quello che dobbiamo fare. Quindi, se dobbiamo fare le foto delle vacanze, non compriamo un'ammiraglia. Sì, cioè, lo possiamo fare. Se è il sogno della nostra vita, abbiamo risparmiato tanto e lo vogliamo fare, possiamo farlo, ma non era necessario, perché per ottenere il risultato bastava molto meno, ma veramente molto meno. Adeguare i nostri mezzi all'obiettivo che vogliamo raggiungere è importante e per avere la consapevolezza di farlo, torniamo al punto 1. Bisogna aver imparato un po' di tecnica, perché se noi conosciamo la tecnica, sappiamo che cosa serve per ottenere quel risultato, per andare dal punto A al punto B. Se sappiamo cosa serve, siamo in grado di portare a casa il risultato e sappiamo come farlo. Se non sappiamo come farlo, a quel punto ci viene difficile sia esprimere qualcosa, sia capire cosa ci serve per esprimere quel qualcosa. Vi faccio un esempio. Se io voglio fare una fotografia artistica con un modello o una modella che passano correndo attraverso un fascio d'acqua di una fontana e quindi voglio cristallizzare l'acqua della fontana addosso alla persona, perché nel momento in cui buca e viene fuori, non è una cosa facilissima da fare. A questo punto un cellulare o un entry level potrebbero non bastare. Io devo sapere che per catturare una fotografia del genere è necessario o un tempo di posa molto rapido, ma molto più probabilmente saranno necessari dei flash. E per utilizzare dei flash è molto probabile che io abbia bisogno di una macchina fotografica professionale con una slitta per poter attaccare un trigger e sincronizzare dei flash esterni. Sapendo come si fa quella foto, io riesco a immaginarmi che cosa mi serve e quindi vado a comprare una macchina fotografica da 900-1500 euro, ma non una da 7000 magari, perché non è necessaria. Quindi ho risparmiato soldi e ho ottenuto il risultato che volevo senza spendere più soldi del necessario. Ma passiamo all'ultimo consiglio che personalmente reputo essere il più importante di tutti. Vi do un attimino di contesto prima di arrivare al consiglio. Quando io vado su un gruppo di fotografia e vedo nei commenti persone che postano una fotografia e chiedono con grande interesse che cosa ne pensate della mia fotografia, ditemi che cosa vi trasmette. Capite che una domanda del genere innanzitutto secondo me è malposta in partenza. Ovvero, io posso capire che soprattutto quando si è principianti possa fare comodo il feedback degli altri. Assolutamente, niente da dire. Diciamo però che questa reiterazione della domanda mi fa pensare da parte anche di utenti che sono nel gruppo da tanto tempo, quindi non sono tutti utenti che dicono è la prima foto che posto, ditemi cosa ne pensate. No, ci sono dei veterani che tutti i giorni magari postano foto e dicono cosa ne pensate, cosa vi trasmette, che emozioni percepite nella mia immagine. Ecco, personalmente questa cosa dopo un po' la reputo controproducente. Nel senso che se io ho seguito i punti 1 e 2, quindi se padroneggio la tecnica e padroneggio la strumentazione, io non devo più chiedere al mio pubblico che cosa gli trasmette la mia immagine. Io devo decidere che cosa voglio che la mia immagine trasmetta. È il contrario, capite? Perché finché io mi pongo col mio eventuale pubblico dicendo ti piace, che cosa ti trasmette, che cosa ci vedi, no, questo è sbagliato. Io non devo più chiederti che cosa ci vedi, io devo crearla in modo tale che tu veda quello che vedo io. Questo si può fare banalissimamente con la messa a fuoco, sembra una cosa difficile da fare, ma in realtà è più semplice di quello che sembra. Vi faccio un esempio. Mettiamo di stare facendo un ritratto di una persona con uno smartphone. Ora, capite la differenza nel momento in cui abbiamo il telefono in questo modo, se io metto a fuoco la persona o se io metto a fuoco lo smartphone. È evidente che stiamo comunicando due cose diverse. Se io metto a fuoco la persona, è un ritratto di una persona che utilizza un mezzo tecnologico. Se io invece faccio magari anche una zoomata sullo smartphone, quindi protagonista diventa lo smartphone, la foto è completamente diversa. Io devo essere padrone della grammatica in maniera tale da capire la differenza tra il primo e il secondo caso. Devo essere padrone della tecnica in modo da sapere che se voglio fare un ritratto della persona intera si fa in un certo modo, se voglio fare un dettaglio dello smartphone si fa in un altro modo. Ma la cosa più importante è che io devo partire da quello che io voglio dire. Non chiederlo agli altri a foto fatta. Vedetela così. Io faccio una foto di una persona con uno smartphone e poi vengo a chiedere a voi che cosa vi trasmette. Ma cosa posso sperare che vi trasmetta? È una persona con uno smartphone non vi trasmette assolutamente niente perché sono io che non vi ho trasmesso assolutamente niente. Io ho fatto una foto senza avere in mente che cosa vi volevo trasmettere e poi sto chiedendo a voi di trovare un senso alla mia foto. E molte volte vedo nelle risposte qualcuno che dice ah una foto di una persona con uno smartphone bello ci vedo un ritratto moderno ci vedo un'ispirazione uno sguardo al futuro la crisi ambientale una cosa fashion moderna retro cioè gli trovano pure delle giustificazioni in maniera tale che questi utenti che come dicevo sono per lo più amatori però non sono principianti possono anche avere la consolidata abitudine di lavorare in questo modo. Secondo me è sbagliato lavorare in questo modo è sbagliato fare una foto senza avere nulla da dire e sperare che chi la guarda riempia i buchi è sbagliato noi dobbiamo fare il contrario bisogna partire da un concept bisogna dire ok stiamo facendo una fotografia per illustrare l'utilizzo di un'app benissimo allora facciamo la persona che utilizza lo smartphone però che guarda in camera e sorride con un pollice perché in questo modo stiamo comunicando qualcosa c'è un concetto dietro noi dobbiamo fare una foto per uno sviluppatore che ha sviluppato questa app e dobbiamo far vedere una persona contenta che utilizza l'app ho detto una castroneria incredibile vi rendete conto della banalità della cornice che vi ho creato però serve a farvi capire come può essere diversa la cosa se io parto da un bisogno reale se ho qualcosa da dire se mi hanno commissionato una cosa da dire magari perché altrimenti non c'è differenza tra una fotografia che posto in questo gruppo e una fotografia che mi parte per sbaglio mentre ho il telefono in mano e sto aprendo la portiera dell'auto mi sono preso i piedi e un pezzo di portiera con la fotocamera in movimento quindi è tutto sfocato e non ha assolutamente senso perché non ce l'ho messo io il senso non avevo chiaro che cosa volevo comunicare quindi i miei tre consigli sono questi quest'ultimo reputo essere il più importante prima di fare una foto pensate a che cosa volete comunicare e mettetelo in quella foto non sperate che sia il pubblico a riempire i buchi che voi avete lasciato perché si viene fraintesi così e badate bene poi magari le vostre foto piacciono anche non c'è cosa peggiore che ritrovarsi a dover esibire una mostra delle proprie fotografie a Soho e ritrovarsi con le persone che ti chiedono come hai fatto a fare quella foto e cosa stavi pensando e tu rispondi no veramente mi è partita per sbaglio mentre aprivo la portiera della macchina e ho mulinato il telefono ed è venuta fuori così capite che non va bene così dobbiamo essere consapevoli quando facciamo una foto questo non vuole essere un discorso pesante ovviamente quando siamo in allegria con gli amici una festa le vacanze non è che dobbiamo essere seriosi sempre dire allora signori tutto in posa adesso contiamo fino a tre facciamo la foto non sto dicendo questo sto dicendo che quando facciamo una foto e la postiamo magari in un gruppo di discussione per avere un confronto cose del genere secondo me è controproducente per noi scrollare nella nostra gallery e pescare delle foto sperando che qualcuno ci dia una giustificazione a una cosa che abbiamo fatto quasi per sbaglio senza neanche pensarci è controproducente per noi perché spesso le persone riempiranno i buchi al posto nostro convincendoci che la nostra fotografia aveva un significato nonostante non ne avesse alcuno è importante che quel significato lo decidiamo noi e padroni della grammatica e della tecnica siamo perfettamente in grado di mettere insieme un file che abbia una storia da raccontare per quanto banale ma almeno potremmo dire di averci pensato e se qualcuno non capirà il nostro messaggio saremo in grado di spiegarglielo e non dovremo semplicemente balbettare qualcosa del tipo sì ma io tanto non sono mica fotografo a questo punto come sempre vi lascio spazio nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate vi ricordo di iscrivervi al canale perché spesso e volentieri io rispondo ai vostri commenti con degli shorts verticali argomento per me sempre avvincente questo della creatività e della grammatica dell'immagine fatemi sapere anche se questo tipo di tema stuzzica il vostro interesse io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti